Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo come fare un buon zaino per via ferrata. Vi faccio vedere che zaino prendere, quali attrezzature andare a inserirci all'interno e soprattutto vi darò un po' di consigli da uno che di ferrate ne ha fatte un po'. Ma iniziamo col video. Iniziamo col capire quale zaino utilizzare per una via ferrata, perché non tutti gli zaini possono andare bene. Per intenderci, la cosa fondamentale che deve avere uno zaino da via ferrata è essere abbastanza attaccato alla nostra schiena, quindi non avere una gran distanza tra lo schienale e la nostra schiena e poi non essere più grosso rispetto alle nostre spalle. Per intenderci, quegli zaini da trekking che per far traspirare tanto hanno magari 5-6 cm di distanza tra la nostra schiena e lo schienale non vanno bene perché tendono a sbilanciare all'indietro e comunque il carico non è vicino al nostro corpo e invece gli zaini molto più grossi rispetto alle nostre spalle, alla nostra circonferenza del corpo, va a venire che se passiamo per dei canalini particolarmente stretti andremo a strusciarli a destra e a sinistra rompendo innanzitutto gli zaini e poi rischiando anche di rimanere incastrati, che non è mai una buona cosa. Due chicche invece che vi consiglio di cercare per quanto riguarda gli zaini per una via afferrata sono la possibilità di avere l'elmet holder, quindi la possibilità di poter portare con una retina apposta il casco nella parte esterna perché veramente torna super super comodo e poi se lo trovate anche di avere la fascia lombare staccabile perché in quel caso una volta che mettete l'imbrago togliete la fascia lombare. In generale comunque uno zaino alla via afferrata basta un 30 litri, più o meno, e come capienza non dovreste superare gli 8-9 chili. Io in questo caso per questa prova utilizzo il ferrino agile 35 che secondo me è veramente perfetto per le ferrate, quindi se volete vedere la recensione ve la lascio qua in alto a destra. A questo punto che sappiamo che zaino comprare possiamo iniziare a fare sullo zaino con la nostra attrezzatura. Iniziamo dall'abbigliamento che è la cosa che io di solito vado ad inserire in fondo. Resumendo di partire con un pantalone, una maglietta, le calze e via dicendo, cioè quindi diciamo già vestiti, cosa si va a portare? Vabbè, sicuramente un secondo strato, se naturalmente non lo avete già addosso, che però lo lascio qua. E poi un piumino e una giacca impermeabile. Questi come un comune zaino da trekking vanno sempre portati, non si può prescindere dal non portarli anche per una via afferrata. Per quanto riguarda il secondo strato, avete due opzioni. O lo tenete nella parte esterna, nel caso vi dovesse tornare utile mentre fate la via afferrata, anche se io personalmente ve lo sconsiglio. Oppure lo mettiamo un attimo da parte e poi lo inseriamo come ultimo attrezzatura in alto a tutto. Altro oggetto che andiamo a inserire naturalmente è un kit medico. Kit medico molto basilare, sono dentro un po' di cerotti, nel caso magari dovessimo tagliarci sopra qualche roccia, un po' di antinfiammatori, diciamo, qualcosa di molto basilare. In caso dovessimo avere grossi problemi in ferrata, dovremmo assolutamente chiamare il soccorso alpino. Ma averlo dietro è sicuramente un ottimo aspetto, quindi anche lui va nello zaino. A questo punto possiamo iniziare a inserire l'attrezzatura da ferrata. Quindi, in brago, mi raccomando, utilizzate sempre le loro custodie perché tornano molto molto utili per richiuderli. Guanti, ragazzi, i guanti non dimenticatevi, sono veramente fondamentali per non avere calli quando andiamo a fare magari delle vie lunghe e se magari abbiamo anche tante scale o comunque tante parti ferrose per non raffreddarsi le mani. Quindi, guanti assolutamente da avere sempre. In molti li lasciano a casa, ma secondo me fa parte veramente del kit basilare per fare una ferrata. Quindi, anche loro. E poi, naturalmente, il kit ferrata, perché senza di questo le ferrate non possiamo farle. Quindi, anche lui. A questo punto potreste trovare molto utile utilizzare una lounge. Io non ce l'ho perché non la utilizzo quando faccio le ferrate, ma può tornarvi utile nel caso vorreste fare qualche sosta durante la ferrata. E nel caso lo andrei a inserire qua, vicino al kit ferrata. Io, purtroppo, come dicevo, non ce l'ho, quindi non posso farvela vedere. Arrivati a questo punto, possiamo inserire il secondo strato che avevamo lasciato fuori prima, perché così ce l'abbiamo in alto nel caso dovesse tornarci utile. E poi, passiamo a parlare dell'acqua. Come vedete, io qui ho due borracce, non solo una. Queste sono due litri. Il motivo è che, quando andiamo a fare una via ferrata, di solito, siamo su una parete rocciosa esposta. Quindi fa molto, molto caldo. Molto caldo perché i raggi del sole vanno a picchiare sulla roccia, la roccia rimbalza il calore e quindi saremo soggetti a un calore molto intenso. Quindi tanta acqua, anche perché se dovessimo fare una via particolarmente lunga, è quasi improbabile trovare una sorgente durante una ferrata. Quindi, davvero, portatevi sempre tanta acqua. Io, quando vado a fare le ferrate, mi porto almeno due litri, soprattutto se è estate. L'acqua, abbiamo due soluzioni. Ora la inseriamo nella parte esterna, in una tasca, oppure all'interno. Potete inserirla nella parte esterna, a patto che, quando poi iniziate la ferrata, la andiate a inserire all'interno. Perché comunque, quando iniziamo la ferrata, fuori non ci deve essere assolutamente niente. Io, di solito, parto già con l'acqua all'interno, perché così poi non ho il problema di doverla ricordarmi, di doverla mettere all'esterno. Diciamo che, inserendola all'interno, è già tutto fatto. Ora che abbiamo inserito tutti gli oggetti nella parte alta, possiamo completare con quello che va inserito nel cappuccio. Innanzitutto, crema solare. Davvero, protezione molto molto alta, per lo stesso principio che vi dicevo prima dell'acqua. Per quanto riguarda la crema solare, vi consiglio almeno una 50, come minimo. E ricordatevi di applicarla ogni 8 ore, in base alla crema che comprate, perché davvero, durante una via ferrata, il rischio di bruciarsi è molto elevato. Quindi mi raccomando, sempre la nostra crema solare. Poi, per lo stesso principio, occhiali da sole. Meglio se hanno un grado di protezione 4. Il 3 può andare ancora bene, ma il 4 è decisamente meglio. Quindi, anche loro, mi raccomando. Cibo, barrette. Anche qui, ricordatevi, quando andate a fare una via ferrata, utilizzate anche le braccia, non solo le gambe. Quindi vi stancherete prima, consumerete molto più energie. Quindi, se di solito, magari per un trekking vi portate 2 o 3 barrette, per una via ferrata aumentate, almeno 5 o 6, perché tenderete a mangiare di più e più spesso. Quindi, anche loro, mi raccomando, non dimenticatele mai. Sempre nella parte superiore io vado ad inserire anche un buff. Un buff che può sempre tornare comodo, un po' per asciugarsi dal sudore, se dovesse fare caldo, da mettersi magari sul collo, se in un punto esposto dovesse tirare vento. Io vedo che molti lo utilizzano anche contro il sudore da mettere sotto il casco, quindi un buff può sempre tornare comodo, è sempre meglio averlo. Infine, la torcia. Torcia, anche lei, fondamentale. Nel caso in poi si dovesse andare lunghi con la ferrata, imprescindibile non averla. Quindi, anche lei, la mettiamo nella parte superiore. Infine, il casco. Perché l'ho tenuto per ultimo? Perché questo zaino, questo ferrino agile, ha la possibilità di utilizzare un helmet holder. Quindi, una retina, che noi possiamo utilizzare per andare a fissare il casco sullo zaino. Tenendolo all'esterno è molto comodo, davvero molto molto comodo. Nel caso in cui non avessimo un helmet holder, possiamo o appenderlo fuori, però comunque cercate di appenderlo in modo tale che non sballonzoli, perché sennò dà veramente fastidio. Oppure inserire il casco all'interno dello zaino. Anche quello potrebbe andare bene. Ma se cercate uno zaino apposta per la via ferrata, mi raccomando, l'helmet holder torna davvero comodo. Ed eccolo qua il nostro zaino per via ferrata. Fatto finito e siamo pronti per partire. Se volessimo utilizzare dei bastoncini, possiamo farlo, però mi raccomando, solo i bastoncini a tre vie, perché poi così possiamo richiuderli e riporli sempre all'interno dello zaino. I bastoncini telescopici ve li sconsiglio, perché quelli dovremmo fissarli fuori, aumentando il rischio di prenderli dentro nelle rocce, mentre facciamo la nostra scalata. Quindi solo i bastoncini a tre vie. Ci tengo ad aggiungere due particolari. In molti consigliano di utilizzare per le vie ferrate le scarpette da arrampicata. Sinceramente io non sono di quell'idea per due motivi. Diciamo che in generale possiamo trovare due tipi di vie ferrate. Quelle molto naturali, quindi magari con poca attrezzatura installata dall'uomo, e quelle tanto artificiali, in cui c'è diversa attrezzatura installata dall'uomo. Su quelle molto naturali ci può ancora stare. Diciamo che sì, hanno la loro comodità, potrebbero tornare comode. Invece sulle vie molto artificiali, lì davvero ve le sconsiglio completamente. Meglio utilizzare o uno scarpone rigido, o una scarpa d'avvicinamento. Ve le sconsiglio anche perché molte volte nelle ferrate capita di fare dei tratti in piano. Quindi magari tra un segmento e l'altro ci sono 20-30 metri da camminare, e rifarlo con le scarpette da arrampicata può fare male e può essere fastidioso. Quindi a mio parere, meglio lasciare le scarpette di arrampicata all'arrampicata. Secondo aspetto è la corda. In tanti vedo che si portano una corda da alpinismo. Anche qua, sì e no. Innanzitutto se portiamo una corda, noi dobbiamo essere in grado di utilizzare una corda e di saper fare le manovre di sicurezza. Quindi nel caso non si sappia utilizzare al 110% una corda, meglio lasciar fare il compito al dissipatore e la seconda persona si affidi solamente a quello. Io porterai una corda solamente se innanzitutto sappiamo utilizzarla e poi se davvero abbiamo una persona molto timorosa che ha molta paura. Ma in qualsiasi caso la persona timorosa resterebbe attaccata col dissipatore. Anzi, la corda rischierebbe quasi di, come dire, essere di intralcio al dissipatore durante la caduta. Quindi, almeno che non siate delle guide, io personalmente vi sconsiglio di utilizzare una corda durante una via ferrata. Detto ciò ragazzi, io ho una speranza di essere stato esaurante e esaustivo ed avervi aiutato a fare lo zaino per la vostra prossima via ferrata. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!